Buongiorno a tutti e a tutte, dalla redazione di Eco Reporters di Usini. Sono Francesco Mudadu e oggi vorremmo presentarvi un vasetto portapenne o portapastelli. L'abbiamo realizzato con delle stecche di gelato, delle cannucce usate e un barattolo di vetro. Il procedimento è questo, abbiamo incollato delle stecche di gelato al barattolo con della colla a caldo. Poi insieme ci abbiamo attaccato le cannucce colorate, poi le abbiamo lasciate asciugare al sole e si è realizzato questo portapenne. Io sono Iris Militano e oggi vorrei presentare questo progetto che abbiamo fatto insieme con il mio gruppo. È un portacandele. L'abbiamo realizzato con un vaso di vetro e con dei lacci attaccati con la colla a caldo. E dentro ci abbiamo messo una candela. Grazie a tutti.